Parcheggio di Porta Cappuccina e consiglieri della Lega presentano un'interrogazione Si ligate incontro con i tecnici ANAS chiesta all'installazione di tre nuove rotatorie Presentata la 66esima edizione della Mostra Mercato dei Fiori in partenza venerdì Consegnata a Fermignano 250 borracce agli studenti della Scuola Media Bramante Grazie a tutti Subito in apertura torniamo a parlare del parcheggio di Porta Cappuccina La zona di sosta che si trova al centro di un contenzioso legale tra il Comune di Pesaro e la società proprietaria dell'area Porta Cappuccina Ad intervenire questa mattina sono stati i consiglieri del gruppo Lega che hanno deciso di presentare un'interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale Vediamo Il parcheggio di Porta Cappuccina torna al centro La questione non è chiara Il Comune ha utilizzato il parcheggio per più di vent'anni a titolo gratuito Soltanto nel 2012 ha prontato un accordo con la società proprietaria dell'area Ha proceduto con tutte le verifiche e anche sulla quotazione dell'area accettando anche il prezzo di acquisto dell'area 515.000 euro più IVA Improvvisamente però nel 7 luglio 2020 con la delibera numero 133 il Comune rettifica la sua scelta e avvia le procedure per l'esproprio Per utilità pubblica La cosa lascia sconcertati Lascia sconcertati da un punto di vista politico Perché un politico quando dice una cosa e mette nero su bianco quello che dice lo deve portare avanti E quindi da un punto di vista di serietà Ma lascia sconcertati anche per quello che i dirigenti dell'amministrazione comunale hanno fatto Cioè noi stiamo portando il Comune a rischiare un procedimento giudiziario Infatti il 22 ottobre già si sarà la prima udienza fissata presso il Tribunale di Pesero Dove la società Porta Capuccina chiaramente andrà a tutelare i propri diritti Ma a quel punto il ricorso eventuale al Tar Che qualora dovesse dare ragione e quindi annullare la delibera 183 emessa dal Comune nel mese di luglio Rischierebbe di far sì che il Comune paghi sanzioni per oltre il prezzo del bene Senza acquistarlo Quindi noi avremmo un bene che non è più nostro Non lo possiamo più utilizzare E in più dobbiamo pagare di più di quello che avremmo speso Per poter far sì che il bene diventasse nostro e fosse di utilizzo pubblico Il Consiglio doveva essere chiamato in causa Ci doveva essere chiamata in causa la Commissione Lavori Pubblici Doveva essere chiamata in causa la Commissione Controllo Atti e Garanzia Per valutare al meglio e soprattutto noi chiediamo di vedere che parere hanno dato gli uffici legali del Comune Che parere ha dato il Segretario Generale da un punto di vista tecnico Perché a noi questa cosa non ci torna per niente Il nostro pensiero come Lega l'abbiamo riposto in un'interrogazione ben formulata presso l'amministrazione comunale Della quale attendiamo un'accelere e pronta risposta Perché non possiamo assolutamente rischiare di buttare al vento un lavoro e una trattativa che è in corso al 2012 E soprattutto non possiamo regalare 800.000 euro per errori di un'amministrazione O forse anche di una dirigenza che magari non ha aperto gli occhi accuratamente E ora la pagina degli aggiornamenti dedicati al coronavirus nella nostra regione Perché il bollettino del Gores segnala come nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.615 tamponi 788 nel percorso nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti I positivi sono 23 nel percorso nuove diagnosi 10 in provincia di Ascoli Piceno 5 in provincia di Pesero Urbino 3 in provincia di Ancona Così come in provincia di Macerata E 2 fuori regione Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici 5 contatti in ambito domestico 2 contatti stretti di casi positivi 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario 2 casi rilevati in contesto scolastico universitario E 5 in fase di verifica Si azzerano invece i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord di Pesero Mentre sono 4 quelli ricoverati nel reparto di malattie infettive E parliamo ora di viabilità perché nella prossima intervista Il riconfermato consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Biancani Ci parla dell'incontro che ha coordinato ieri tra i tecnici ANAS I rappresentanti dell'amministrazione comunale Dell'ente e del quartiere San Bartolo Per discutere del progetto relativo alla sicurezza stradale delle Siligate Per cui è prevista l'installazione di un New Jersey Ma per la quale è stata richiesta anche l'installazione di tre nuove rotatorie Vediamo A seguito delle diverse segnalazioni che abbiamo avuto da parte di molti residenti Che vivono lungo la strada statale, lungo le Siligate Che avevano visto ANAS realizzare alcune misurazioni Ho deciso in accordo con il comune di Pesero Insieme al quartiere e anche insieme all'ente parco Di chiedere un incontro direttamente ai tecnici di ANAS Che stanno seguendo il progetto Abbiamo chiesto di farci vedere quello che era previsto In realtà loro stanno lavorando a un progetto di messa in sicurezza Che devo dire è sicuramente un bel segnale Che prevede la realizzazione di un New Jersey Da praticamente dopo Catabrighe Più o meno all'altezza del concessionario BMW Fino a Casa Badioli Ovviamente prevedendo in alcuni tratti Che questa barriera in mezzo alla strada venisse interrotta Durante l'incontro abbiamo evidenziato Come dire questo progetto Che avrebbe dei grossi disagi Per i tantissimi residenti Che vivono affacciati lungo la strada statale Che sarebbero costretti a fare chilometri e chilometri di strada In più per poter fare un'inversione di marcia E questa cosa è sicuramente comunque Ripeto positiva dal punto di vista della sicurezza Ma abbiamo chiesto di integrare il progetto Appunto per andare incontro alle esigenze Sia dei cittadini Cioè delle persone che abitano in questo territorio Ma anche delle diverse realtà Che lavorano lungo questa strada E quindi abbiamo chiesto di verificare La possibilità di inserire altre tre rotatorie Oltre a quella già prevista all'altezza dell'incrocio Per Firenzola di Focara In cima alle Siricate Rotatorie che hanno detto che loro pensano Di completare la progettazione E quindi iniziare la gara Entro il mese di marzo 2021 Abbiamo chiesto altre tre rotatorie Che sono indicativamente Una all'altezza della BMW Una subito prima dell'abitato di Colombarone E l'altra nel tratto compreso Tra Colombarone e Cesebadiori Quindi queste tre rotatorie Abbinate alla rotatoria Che è già prevista Il bivio per Firenzola Potrebbe come dire Ridurre i disagi Ma anche aumentare ulteriormente La sicurezza Perché sappiamo che Ogni incrocio Che è regolamentato Con la rotatoria Crea comunque un Ralentamento della velocità E ovviamente sarebbe importante Perché in alcuni casi Sarebbe possibile Realizzare anche degli attraversamenti pedonali A lato ovviamente di questo progetto Abbiamo chiesto anche di verificare La possibilità anche per il futuro Di poter realizzare Una pista ciclabile Sapete che come ragione Marche Abbiamo già finanziato Insieme al comune di Pesolo di Gabice Il tratto che collega Colombarone a Gabice Ovviamente nel progetto Della ciclovia adriatica È previsto anche il collegamento Tra Colombarone e Pesolo E quindi Questo progetto Potrebbe essere anche l'occasione L'opportunità Per verificare la possibilità Di inserire anche un percorso Ciclo pedonale E ora parliamo di politica E di elezioni regionali Perché ad essere stata eletta Per la prossima legislatura Tra le file Dei consiglieri 5 Stelle C'è Marta Ruggeri Esponente pentastellata Della provincia di Pesolo Urbino L'ha intervistata per noi Simone Celli È una soddisfazione Se non altro Vedere che in un momento difficile Per il Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle Della nostra provincia Ha tenuto un pochino meglio E soprattutto Nella città di Fano Abbiamo avuto l'11% Dei consensi Il che insomma È comunque Un dato abbastanza positivo Perché evidentemente I cittadini hanno apprezzato In una qualche forma Il nostro lavoro sul territorio Per quali temi si batterà? Naturalmente Il tema principe Per cui mi batterò È il tema della sanità Quello che ho seguito Per diversi anni In Consiglio Comunale Adesso ho la fortuna La responsabilità Di essere stata eletta Nell'organo Che si occupa Principalmente Di sanità Perché l'80% Del bilancio regionale Come sapete Riguarda la sanità Quindi Il centrodestra Che ha vinto poi le elezioni Si è speso in tante promesse Durante la campagna elettorale Io insieme alla mia collega Simona Lupini Verificheremo che queste promesse Vengano mantenute Poi tra i vari argomenti I vari temi C'è sicuramente il rispetto Delle donne a tutto tondo Quindi parità di genere Politiche di genere Certamente Come sapete Io stessa Sono stata Oggetto di insulti Sessisti Se così si può dire Perché forse Ci sono aggravanti maggiori Perché erano proprio Insulti di una volgarità Inaudita Tramite i social Non è un caso isolato Perché nella nostra provincia Siamo state ben tre candidate A denunciare Questo spiacevolissimo Inconvenienti Comunque certamente Il dato positivo È che il Movimento 5 Stelle Ha eletto due donne Due donne giovani E ci batteremo Poi Simona Lupini Tra l'altro Ha proprio attualmente La delega Le pare opportunità I servizi sociali Per l'assessorato di Fabriano Con il Movimento 5 Stelle E quindi È più di me Forse Addentro a queste tematiche Porteremo avanti Sicuramente Una politica di genere Profonda Per l'emancipazione Delle donne Soprattutto perché ci sia Il rispetto Delle donne Che hanno dei ruoli pubblici Come appunto Fare politica Sicuramente Bisognerà riflettere Anche su un linguaggio Che sia inclusivo Ecco Anche se a livello Di rappresentanza Proprio in consiglio regionale Diciamo che Come donne Sarete soltanto Il 25% circa Certo Purtroppo il dato È un dato negativo Anche se c'è la preferenza Di genere Che è stata Apportata A questa nuova legge Regionale Quindi c'era la possibilità Di votare Una donna E un uomo Contemporaneamente Siamo state elette In pochissime rappresentanti Ripeto che sono contenta Che invece Le rappresentanti Del Movimento 5 Stelle Siano entrambe donne E questa è una cosa Veramente particolare Perché in tutti gli altri partiti La X è stata messa O il nome È stato scritto Principalmente Per uomini E nell'ultima seduta Che si è tenuta Nella giornata di ieri Il consiglio provinciale Ha approvato Con l'astensione Del gruppo Cambiamo pagina Le variazioni al documento Unico di programmazione 2020-2022 Che riguardano In particolare L'inserimento Delle risorse giunte Dal ministero Dell'istruzione Sia per interventi Urgenti di dirizia scolastica Per l'adattamento Degli ambienti E delle aule In funzione anti-covid 120 mila euro Utilizzati per vari Istituti superiori Sia per il noleggio Di strutture temporanee Ad uso didattico Per un totale Di 172 mila euro Di cui 60 mila Per l'affitto Dell'ex scuola Infermieri in Viale Trieste Che ospita 13 classi Del liceo Mamiani di Pesero Ulteriori risorse Ovvero 582 mila euro Sono state Assegnate Con decreto Interministeriale Per la progettazione Degli interventi Di messa in sicurezza Ed efficientamento Energetico Degli edifici Dei licei Apolloni E Torelli Di Fano E Itis Mattei Di Urbino E a partire Da venerdì Fino alla prossima Domenica Piazza del Popolo Si prepara Ad ospitare La 66esima edizione Della mostra Dei fiori E delle piante Ornamentali Manifestazione Che è stata Quindi confermata Ma completamente Rivoluzionata Per rispettare Le normative Anti-Covid Vediamo il servizio Il 2, 3 e 4 ottobre Dalle 9.30 Fino alle 22 Piazza del Popolo Ospiterà La 66esima edizione Della mostra Dei fiori E delle piante Ornamentali Lo svolgimento Della manifestazione Che si è decisa Di organizzare Dopo aver ricevuto Parere favorevoli In ambito sanitario Dall'Asur Sarà però Rivoluzionato Per rispettare Tutte le normative Anti-Covid Niente cerimonia Di inaugurazione O spettacoli Obbligatorio L'utilizzo Di mascherine E geli igienizzanti Presenti Anche all'interno Della fiera E la decisione Di allestire Tre ingressi Differenti Sui lati Della piazza Che saranno Contingentati E controllati Dalla protezione civile E dagli agenti Della polizia locale I quali In caso di assembramento Potranno momentaneamente Chiudere gli accessi All'interno degli stand Invece L'attività di controllo Sarà affidata Ai 22 espositori Presenti per questa edizione L'assessore Condelega Le attività economiche Francesca Frenquellucci Ha poi chiarito Le motivazioni Che hanno portato A confermare La mostra Mercato dei fiori Dopo la decisione Di qualche settimana fa Di cancellare invece La fiera di San Nicola Come l'abbiamo già spiegato Nella fiera di San Nicola Avevamo avuto Tutti Pareri negativi Di conseguenza Ci siamo sempre confrontati Anche con gli altri comuni Quindi anche con L'assessore di Fano E altri assessori Di altri comuni Abbiamo deciso Di non fare La fiera Poi chiaramente Ne ho parlato in giunta Cioè la fiera di San Nicola Parliamo di spostare 11.000 persone Su due chilometri Quindi era anche difficile Gestirla Mentre invece La mostra dei fiori Ma come altre mostre Che stiamo organizzando Per i prossimi mesi Sperando che la situazione Non peggiori Sono diverse Perché riesci a controllarle Come il mercato Del martedì Oppure la stradomenica O anche il mercatino Dell'antiquariato Sono mostre specifiche Quindi non si muovono Così tante persone Poi abbiamo chiesto Un parere All'Asur E l'Asur Ci ha dato Parere favorevole Ci saranno All'interno della piazza Delle entrate E delle uscite Sarà tutto sotto controllo Ci sarà la protezione civile E anche i vigili urbani La città risponde Sembra molto bene A questa manifestazione Quindi diciamo Siamo stati tutti Concordi nel farla Con le norme anti-covid Anche a Fano Abbiamo visto Che hanno funzionato Abbastanza bene Non abbiamo avuto Difficoltà Nel contingentare le persone C'era la protezione civile Ogni stand all'interno Abbiamo tutti i cartelli Di stianzamento E disinfettanti Quindi è andata Abbastanza bene E ci auguriamo Che sia Anche per Pesolo Che non abbiamo Nessun tipo di problema Via Ci aspettiamo Una buona fiera Comunque Anche con le disposizioni Perché comunque Abbiamo visto Che ormai Ci si convive Con queste regole Si riesce a lavorare uguale Con le massime attenzioni Vedo che La gente rispetta Come vediamo Nei nostri garden Hanno sempre le mascherine E ci dà comunque Molta forza Il covid Diciamo che Se prendiamo anche Il nostro esempio La mia azienda Ma anche le altre Ci ha stimolato molto Quindi ci siamo attrezzati Ci siamo adeguati I garden Con più spazi Abbiamo reagito molto bene Vedrete delle belle cose Tutti noi Diciamo Portiamo novità Cerchiamo di fare Di rendere Diciamo i balconi In questo momento autunnale Ma anche le fioriere I giardini Molto più verde Diciamo il covid Ha sensibilizzato molto Al verde Anche perché Stando più in casa Hanno Diciamo Comprato più piante Confermati Confermati poi Come ogni anno Gli appuntamenti Collaterali all'evento Come la mostra D'autunno Nella sala Laurana Della prefettura Bonsai Pesaro 88 Aperta dalle 9 Alle 12.30 E dalle 15 Alle 22 Ed è stata inaugurata Ieri nella piccola Galleria comunale Di Via Branca La mostra fotografica Con gli scatti Più belli Della passata edizione Del Festival GAD Un appuntamento Tradizionale Che anticipa Come di consueto La partenza Della nuova edizione Del Festival Che quest'anno Prenderà il via Proprio la prossima domenica Le interviste Sono a Giovanni Paccapello Presidente dell'Associazione Amici della Prosa E al direttore artistico Del Festival Cristian della Chiara Anche quest'anno Davvero Il Fotoclub Ha fatto miracoli Per presentarci La sintesi In fotografia Di quello che è stato Il 72esimo Festival Quello del 2019 E naturalmente Ci sono le più belle foto E gli appassionati Di teatro O gli abbonati Dello scorso anno Visitando la mostra Possono rivivere Certi momenti Degli spettacoli 2019 Ma la mostra È anche un'occasione Particolare Perché È il primo momento Nel quale Si comunica Al pubblico Indistinto Il programma Del Festival Infatti Si possono ritirare Alla mostra Appunto Si possono ritirare I pieghevoli Con tutto il programma Della manifestazione E si possono ammirare Le belle ceramiche Che gli amici Della ceramica Mettono in palio Quest'anno Per i migliori spettacoli I migliori attori I migliori regie Al Festival Del 2020 E quindi È anche un'occasione Per cominciare A vedere A parlare Con gli amici E a capire Che cos'è Questo 73esimo Festival Vedere i premi Vedere le fotografie E cominciare A prepararsi Per i primi due spettacoli Che lo ricordo Sono il 4 Domenica Il 4 ottobre Domenica pomeriggio Alle 17.30 Con Cari Pagliacci Uno spettacolo Per bambini Infatti parliamo Del GAD Festival Ragazzi E il 5 Lunedì Alle 17.30 Una compagnia Di Gardolo In provincia di Trento Ci presenterà Il malato immaginario Una ricostruzione Di Molière Fatta da un gruppo Di giovanissimi Per i giovanissimi È sempre emozionante Ripartire da dove Ci eravamo lasciati Ringrazio una volta di più Il Fotoclub Che ci segue da tanti anni Devo dire che ci regala Delle immagini Che sono Punteggiano un po' Il ricordo Del nostro lavoro E sono da stimolo Per fare sempre meglio E questo momento Che è anche un momento Per ritrovarci Tutti assieme Con i nostri soci Che frequentano numerosi Questa mostra È appunto Il momento di lancio Di questa nuova edizione È anche il momento Di raccolta delle immagini Che poi costituiranno La mostra del prossimo anno Ovviamente E Orbino proseguirà Fino al 18 ottobre Nel collegio Raffaello In Piazza della Repubblica A ingresso libero La mostra Raffaello Una mostra impossibile Esposizione che contribuisce A celebrare Il 500esimo anniversario Della morte del divino pittore Per la settimana Che va dal 28 settembre Al 4 ottobre La mostra sarà aperta Dalle 10 alle 18 Nelle settimane successive Sarà aperta Unicamente il sabato E la domenica Con gli stessi orari Calcio misto Per bambini e bambine Attività motoria Avviamento sportivo E ginnastica dolce Wisp Pesaro e Urbino Per il mese di ottobre Presenta un piatto Ricco di appuntamenti Dedicati a tutte le fasce d'età E con la partenza Di ben 4 corsi Tra cui uno Completamente nuovo È dedicato al parkour Per le date E maggiori informazioni È possibile contattare Il numero 0721 65 94 5 E chiudiamo Questa edizione Del nostro telegiornale Andando a Fermignano Perché ieri mattina Alla scuola media Abramante Sono state consegnate 250 borracce Agli studenti Grazie ad un progetto Sostenuto dall'istituto Scolastico Dal comune E dall'azienda Midor Vediamo il servizio Sono 250 le borracce Che ieri Sono state consegnate Ai ragazzi Della scuola secondaria Di primo grado Donato Bramante A Fermignano Un progetto Realizzato grazie Alla collaborazione Tra la scuola media L'amministrazione comunale E l'azienda Midor Che punta Alla sensibilizzazione Dei più giovani Sul tema dello smaltimento E riciclo di plastica E rifiuti L'obiettivo Ha commentato Il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi È quello di risparmiare L'utilizzo Di 50.000 bottiglie Di plastica All'anno Insieme a questa iniziativa Fatta studiata Con Ivan Calandra Di Midor Di Fermignano Insieme a chiaramente Alla dirigenza scolastica Si vuole sensibilizzare I ragazzi Per un uso razionale Della plastica Attraverso l'utilizzo Di queste bottigliette termiche In alluminio Verranno risparmiate Circa 50.000 bottiglie Di plastica all'anno Quindi per 250 ragazzi Il che vuol dire Sensibilizzare In maniera profonda Il nostro futuro I nostri ragazzi Che sono i cittadini Del futuro In un uso razionale Della plastica In un uso soprattutto Consapevole Perché la plastica Sappiamo tutti I tempi di degradamento Che sono lunghissimi E appunto Per evitarne l'uso Lo spreco Il consumo Abbiamo dato ai ragazzi Una borraccia Che potrà essere Potenzialmente eterna E che potranno utilizzare In tutte le loro attività Sia scolastiche Che extrascolastiche In questi 4 anni e mezzo Abbiamo lavorato tantissimo Per l'ambiente Siamo uno dei comuni Più ricicloni delle marche Nel 2018 Siamo stati Il miglior comune Per quantità di raccolta differenziata Quest'anno Ci attestiamo Circa l'81% Abbiamo riqualificato Da un punto di vista energetico Quasi tutte le strutture comunali Ad esempio Siamo in questo momento In una scuola Dove sono stati fatti Sia un intervento sismico Che energetico Che abbiamo riaperto A luglio Dopo un anno E qualcosa di lavori Quindi un intervento Da quasi un milione e mezzo Di euro Che ci ha portato A avere una scuola Dalla classe G Quindi la peggiore classe Da un punto di vista energetico Alla classe A Quindi una tra le migliori Quindi E poi Oltre a averla riqualificata Da un punto di vista sismico Oltre ai vari impianti LED Che sono stati fatti Per la pubblica illuminazione La riqualificazione energetica Che inizierà a breve Per quasi un milione di euro Sul palazzo comunale Per non parlare poi Del progetto massimo Che stiamo per realizzare Che è la nuova scuola Che è 5 milioni e mezzo di euro La scuola più grande Delle marche Di edificio Enzeb Quindi una struttura Energeticamente zero A consumo zero Sono 250 borracce Tutte in alluminio Nickel free Con vernice esterna Atossica Dove Praticamente i ragazzi Possono Usare All'infinito E così Riduciamo L'uso della plastica Perché Ci sembrava comunque Un argomento importante Da affrontare Anche In virtù del covid Che ha un po' Soppresso Tutto questo Sensibilizzazione All'uso della plastica Noi l'abbiamo voluta Insomma Portare in primo piano Ecco Ci avevamo pensato Un anno fa Però come poi Ha detto il sindaco Nella precedente intervista La scuola non era pronta E lo stesso covid Ci ha fatto chiudere Un po' tutto Quindi Siamo arrivati lunghi Ma in realtà Il nostro pensiero Era stato tra i primi Intanto Iniziamo da questo piccolo gesto Poi abbiamo fatto Anche un bigliettino Attaccato A loro Dove c'è scritto Un piccolo gesto Per aiutare il pianeta Aiutaci anche tu A ridurre l'uso della plastica Dove comunque Li sensibilizziamo E in più Abbiamo Promosso Il nostro punto vendita Con uno sconto del 10% Qualora i genitori O gli alunni Venissero nel nostro punto vendita Dove abbiamo Tutti i materiali Ecocompatibili Senza plastica Quindi È questa l'iniziativa Al momento Siamo da 38 anni Vicini al territorio Sensibili all'ambiente Io ringrazio Dell'iniziativa Midor E il sindaco E tutta l'amministrazione Di Fermignano Per questa iniziativa E per la sensibilità Nei confronti Della scuola E soprattutto Degli alunni Quest'iniziativa Promuove Il non utilizzo Della plastica Ed un servizio igienico Nell'acqua Ottimo Per la popolazione E in questo caso Degli studenti In chiusura Un flash di sport Perché l'alma Juventus Pano Ha reso noto Di aver acquisito Il diritto Alle prestazioni sportive Del giocatore Classe 2000 Alessandro Martella Che arriva In prestito Dal Parma E vi ricordo Ora la prima serata Di Rossini TV Perché questa sera Alle 21.15 Potrete rivedere Lo speciale Ideobook Il premio letterario Ideato da Ideostampa Vi ricordiamo poi Alcuni appuntamenti Anche per questo Fine settimana Perché sabato Potrete vedere In diretta Il Memorial Nino Pizza Sabato 3 ottobre Alle 16.30 In diretta Su Rossini TV La sfida tra Ital Service Pesaro E Olympus Roma E sempre in diretta Su Rossini TV Domenica sera Dalle ore 21 Potrete assistere Al 27.00 Concorso Violinistico Internazionale Andrea Postacchini La serata Conclusiva E di rinascita In cui sarà presente Anche l'orchestra Filiarmonica Marchigiana Ricordiamo l'appuntamento Quindi domenica 4 ottobre In diretta Dalle ore 21 Su Rossini TV E l'informazione Torna invece puntuale Domani mattina Alle 7.20 Con Buongiorno Rossini La rassegna stampa Di Rossini TV Grazie per averci seguito Anche in questa edizione Del nostro telegiornale E vi auguriamo Un buon proseguimento Di serata Con i programmi Di Rossini TV E vi auguriamo Un buon proseguimento E vi auguriamo Un buon proseguimento